Il professore bravo, capace, stimato e competente è una persona che ha un lavoro importante in questa fase politica del paese così complessa, è un amico al quale questa sera abbiamo chiesto una roba fatta così, ragionare un po' insieme di cos'è questo percorso sulle riforme costituzionali e di farlo però in maniera comprensibile, comprensibile non perché non lo sia, ma perché possiamo cogliere quegli elementi anche di modifica sulla nostra vita, sul nostro rapporto con le istituzioni, cioè che cosa cambia di fronte agli scenari che sta delineando questo lavoro in termini di governo, Parlamento e Presidenza della Repubblica, in termini di forma di Stato e forma di governo, in termini di una legge elettorale conseguente a questi scenari e quindi proviamo a farlo restituindoci il più possibile lo scenario che si può vedere creare, anche perché ognuno di voi, ognuno di noi, qui c'è gente che fa politica a diversi livelli, ma anche gente che ha il proprio mestiere, le proprie professioni, la propria azienda, la propria partita IVA e ci scontriamo con le inefficienze, i doppiouni, le lungaggini che queste riforme vorrebbero avere anche l'obiettivo di superare e di eliminare. Per cui con l'informalità e senza spaventarci, perché noi qui siamo abituati, esattamente come facciamo a tavolo, esattamente come facciamo mentre camminiamo andando a spello, a ragionare un po' insieme. Sono assolutamente consentite interruzioni, ragionamenti, possibilità di interlocuire e di interagire, lo facciamo dopo che Francesco ha un po' apparecchiato il ragionamento, non ci portiamo via troppo tempo perché lo reale è quello che è, però il senso Francesco è proprio quello di chiarirci un po' le idee e di rafforzare questo spirito di ragionare insieme sulle cose, sui problemi. Non chiediamo un po' con il Fumberti a tavola spiegato cos'è questa roba, è un bel esperimento che stiamo facendo da un po' di tempo con un po' di persone, prenderci un paio di giorni una volta all'anno che rafforzano anche un impegno politico non solo attorno a Renzi, ma attorno anche alle dimensioni territoriali, al sostegno all'azione di Beppe e di Damiano sull'esperienza regionale e questa, insomma, vista anche la fase è delicatissima, noi abbiamo distrutto gli schermini che Francesco ha fatto a tavola su ciò che può accadere rispetto alla crisi di Roberto, di modo che non rimanga traccia, però penso che sia un momento difficile ma anche particolarmente fertile, interessante e motivante sul piano della discussione. Non so se Beppe e Damiano vogliono aggiungere le cose, non partiamo. Il ringraziamento è uno dei buoni casi dove effettivamente non è formale, perché con Matteo e con Beppe e con Damiano sono diversamente nostro, perché questa è la parte mia, quindi è una cosa importante che riporta anche a me quella dimensione un po' dell'essenziale che in fondo è anche giusto, che fa parte dell'origine di un lavoro, di un lavoro a fare ricerca e comunicarla, comunicarla ragionandone con gli studenti nella società, c'era una famosa battuta, loro lo sanno, più di qualche volta l'espressione è un po' delia, un po' delia, che dice, sai perché noi facciamo i costituzionalisti? No, perché facciamo i costituzionalisti? Perché non ci piace la politica? Se no, scherzateci, avremmo fatto un altro mestiere. Il mestiere costituzionista è in fondo questo, parlare alla società, provare a spiegare i passaggi, se no uno faceva chimica, questa è un po' la sintesi della cosa. E allora a maggior ragione occasioni come questa è fatta tra amici con grande informalità e consapevolezza anche del dramma delle ore che si stiva vivendo nel nostro paese, perché poi è una cosa, c'è un tasso di drammaticità che negli ultimi due anni questo paese sta vivendo, che è difficile anche da spiegare, vivendo occidente. La cosa più difficile che io trovo, io insegno a Perugia, alla Luiz, è proprio questa, è quello di dire ma dieci anni fa era un'altra cosa, non ci ricordiamo dieci anni fa, cioè gli studenti che vengono a lezioni, a me al primo anno non se lo ricordo perché non vi era un'altra fase, c'è proprio quella di consapevolezza, ma noi dieci anni fa ce li ricordiamo e ti dà l'idea di come tutto il mondo veramente si sta rivoluzionando e come queste ore e a maggior ragione aggiungono caos, dubbi, incertezze. Su questo c'è questo lavoro che abbiamo fatto noi, questa commissione diciamo chiamata inopinatamente dei saggi, perché torno a dire non parlano con le nostre mogli, ma questo è un altro paio di mare, che è stato un lavoro sostanzialmente che per certi aspetti di tipo ricognitivo per dare al Parlamento l'occasione di poter ragionare sui punti essenziali dei problemi da un lato e dall'altro anche per mettere di fronte al Paese a quella che è la vera, diciamo oggi più chiara verità. La verità è che la crisi economica non la risolve da sola, cioè la crisi economica è anche la crisi delle istituzioni e per noi, per quelli che come noi credono anche naturalmente che le istituzioni e anche la rappresentanza sono i partiti politici e anche la crisi dei partiti politici e dunque legge elettorale. Allora dopo tanto parlare, si va in carta trascrivendo libri sulle riforme ormai, sono quasi 35 anni, le tre bicamerali, pacchi e pacchi di libri, quante trasmissioni televisive, cioè tra la nazionale e le riforme istituzionali sono le cose che gli è la legge elettorale, sono le cose che gli italiani ormai in maggiorità riproporzionale è roba che si fa senza problemi. Questa roba però deve avere un fine e una fine. Allora quando noi siamo stati chiamati in qualche modo a dare il modo al Parlamento di mettere in ordine le cose, le priorità, il Capo dello Stato nella riunione, il Presidente di Lula quando ci ha detto in maniera molto chiara e semplice, molto netta, due cose. Voi siete chiamati a fornire al Parlamento uno strumento per decidere, voi non dovete decidere, il Parlamento ovviamente deve decidere perché è il termine iniziale e finale della sovranità, però voi avete un compito e questa è una cosa decisiva, il compito è squaternare problemi, offrire delle soluzioni, una più di una, spiegare gli effetti di quelle scelte e le conseguenze che ne deriveranno. Naturalmente noi siamo tanti, 35 persone sono tanti, per lo più eravamo giuristi, un solo economista, due politologi, devo dire che su questo l'Italia probabilmente poteva fare di più, comunque aprirsi di più. Ve lo dico da giurista, non tutto si risolve nel pensiero giuridico, anzi probabilmente un'apertura all'economia, alla politologia, alla sociologia, ti dà il senso di una complessità che oggi le istituzioni vivono di fronte al caos che ci circonda, comunque al di là di tutto noi abbiamo fatto questo lavoro e questo lavoro stigmatizza tre grandi principi chiave, poi parliamo delle cose concrete, ma insomma tre grandi principi, il primo è che crisi economica e crisi istituzionale stanno insieme, voi dite, vabbè, non è che ci voleva 35 anni, poi io sono più giovane, ma c'è, che ne so, Valerio, tre ex presidenti emeriti della Corte Costituzionale, il presidente dell'antitrust, cioè c'è una specie di manuale cencelli della Repubblica Italiana, nei grandi livelli, quindi diciamo io sono veramente il ragazzo di bottega, però in questo contesto, questo principio che pare appunto una banalità, crisi economica e crisi politico-istituzionale stanno insieme, non lo è, perché negli ultimi vent'anni le due cose erano distinte, innanzitutto perché così la crisi economica non c'è mai stata, secondo di poi perché i partiti politici hanno sempre, dico, i partiti per capirsi come soggetti istituzionali per fare riforma, questo problema lo sono visto semplicemente squadernati in due casi, è un problema di legge elettorale o è un problema di riforma istituzionale, il tema dell'economia non entrava, invece le tre cose, economia, legge elettorale e riforma istituzionale stanno insieme, perché crisi economica e anche crisi di meccanica, questa sembra una grande acquisizione, in realtà non lo è e tuttavia solo oggi il nostro Paese viene messo con tutta chiarezza di fronte, la bicamerale d'Alema che era l'ultima cosa che noi abbiamo avuto istituzionalizzata da parte del Parlamento su questo, questo non va a decidere, allora perché dobbiamo fare le riforme? Perché se no non basta nessuna legge di stabilità per riportarci a pari ad una democrazia accettabile, perché se non rifacciamo un sistema partitico adeguato, se non ridiamo chiarezza alla meccanica tra Camera e Senato, possibilità di decidere, evitare decreti, leggi e oblibus, maxi emendamenti, schifezze tecnicamente varie, non ne usciamo ugualmente, quindi possiamo stare quanto ci pare sotto il 3%, comunque il tasso di qualità democratica sarà inferiore a quello della qualità degli altri, tutto qua, e quindi siccome è un cane che si morde la coda, anche la qualità della nostra economia sarà più scadente, e via discorrendo. Questo è il primo principio, il secondo principio che noi abbiamo cercato di mettere in luce è che la politica deve tornare di dove nasce, cioè sul territorio. Questa storia che si può fare politica allontanando gli elettori è una roba francamente un po' difficile da spiegare, questo in parte è dentro la storia recente del Partito Democratico e delle sue fatiche, in parte è dentro un concetto che coinvolge il Partito Democratico e non solo, perché naturalmente la legge elettorale Porcellum è costruita esattamente per non far toccare palla all'elettore e a maggior ragione per non far toccare palla all'elettore che vuole eleggere la prospettiva politica in un contesto territoriale, quindi voglio sapere chi è il mio eletto, lo elenco perché vorrei che queste istanze del mio territorio venissero, come dire, si ritrovasse nel Parlamento e via discorrendo. Il terzo criterio è che non c'è politica senza partiti, poi che Grillo le chiama i movimenti, che quell'altro le chiama le associazioni, insomma non ci sono terze strade. Questi sono i tre pilastri, su questi tre pilastri c'è una considerazione generale, che si può avere una democrazia che ha partiti molto deboli, ma istituzioni molto forti. Il caso della Quinta Repubblica Francese per esempio, che modificando con le istituzioni ha riformato poi si stava partiti, che oggi ha partiti forti e istituzioni forti. Si può avere una democrazia con partiti molto forti e istituzioni tendenzialmente deboli, in caso Italia, cosiddetta Prima Repubblica, i partiti erano fortissimi, ma il governo era una cosa debole, ogni sei mesi ce n'era un altro e si andava avanti, con tutta quasi serenità, perché in fondo le nostre certezze non albergavano lì ma altrove. Non si può avere però un sistema dove tu hai partiti deboli e istituzioni deboli. È la fotografia di stasera, è stasera il governo che ha almeno cinque ministri, partiti sfarinati, partiti che fatichiamo a definire l'Italia, perché questa fotografia, partiti deboli, istituzioni deboli, è una fotografia che non tiene in nessuna parte del mondo, che aspira a chiamarsi democrazio naturalmente, perché poi possiamo trovare altre formule ma è un'altra cosa. Allora questa è la consapevolezza che noi ha mosso i nostri lavori. I nostri lavori hanno cercato, adesso non entro in troppe tecniche italiane, non è serata e probabilmente forse non è neanche alla fine tanto utile, ma viveva di tre grandi questioni. Come rispondere al problema di velocità nella decisione che il tempo della politica oggi impone? E se questa velocità è una velocità adeguata alla democrazia? Detta in altri termini, è giusto che il governo risponda rapidamente ai problemi che il mondo ti manifesta, che il tuo paese ti manifesta, improvvisamente, un terremoto, piuttosto che il problema della disoccupazione, lo spread che sale e cose del genere. Ma fino a quanto questa velocità può bypassare il dibattito parlamentare? Può bypassare quella che è ancora una forma di governo tipo parlamentare? Grande questione. Seconda questione, quindi il tema della velocità e gli strumenti che governano e possono gestire il tema della velocità rispetto al tempo che ci circonda e al tempo del decidere. Seconda questione, come il tempo del decidere rischia di comprimere troppo il tempo della rappresentanza? E quindi dov'è il cittadino? Dov'è il voto del cuore oltre che il voto della ragione? Dov'è la ricostruzione di un sistema partitico? Questi doppi passaggi abbiamo provato a svolgerli a partire appunto dalla meccanica, noi avevamo un compito che era destinato, avevamo un compito solo su alcune parti, non parlavamo di giustizia perché mi pare che si è un tema un po' caldo in Italia e evitavamo adeguatamente tutte le questioni quindi relative anche ai prodotti della corte costituzionale e cose di questo tipo. Noi parlavamo della seconda ed esclusiva parte della costituzione, della prima non si tocca e della seconda parte di bicameralismo, forma di Stato, forma di governo, titolo quinto e naturalmente legge elettorale. Ma insomma alla fine della fiera che cosa emerge? Emerge che questo Paese ha un bicameralismo che deve essere cambiato. Due camere che fanno esattamente la stessa cosa in un tempo così lungo con una procedura a tre letture prende sostanzialmente lentissimo il decidere. Anche la migliore decisione del mondo arriva troppo tardi, anche nel maggiore concordio possibile arriva troppo tardi. Questo è un dato oggettivo e infatti solo noi abbiamo questo bicameralismo così assurdo in tutto il mondo, questo bicameralismo abbiamo solo noi. Voi immaginate se noi avessimo un bicameralismo come i tedeschi, come i francesi, come gli inglesi, come gli spagnoli, qualsiasi, noi avremmo una sola camera che dà la fiducia, che si occupa dell'indirizzo politico sulla base di voi e gli elettori e l'altra, la seconda, che si occupa dei rapporti tra territorio e naturalmente potere politico e quindi le questioni delle autonomie, diciamola così, delle regioni, dei comuni a seconda dei casi, delle comunità autonome, dei lender, quella roba lì. Per dirla con eleganza, la Camera dei Deputati si occupa della forma di governo, il Senato si occupa della forma di Stato, la Camera dei Deputati si occupa del rapporto fra eletti e di elettori, quindi di indirizzo politico, il Senato si occupa invece dell'autorità politica e della distribuzione territoriale del potere. Questo non è. Per fare questa roba qui ci vuole appunto, lo diceva prima giustamente Matteo, la riforma dell'articolo 138, perché questo prevede la nostra Costituzione. L'articolo 138, bene che vada, bene che vada, servono quattro mesi, ma una roba proprio rush, veloce. Per fare una riforma dell'articolo 138, ci vogliono quattro mesi di certezze, di condivisioni, vere, non false, vere, dove gli emendamenti a quel testo praticamente non esistono, perché è costruito naturalmente con un intervallo inferiore di tre mesi tra una Camera e l'altra, eccetera, eccetera, quindi se proprio tutto funziona, bene che vada, che nessuno solleva il referendum contro perché la maggioranza è alta, eccetera, quattro mesi. L'articolo 81, che appunto oggi ci dà la legge di stabilità e consente al nostro Paese di stare in un quadro di governo dell'economia, se no saremmo in un caos medio orientale, forse neanche più quello, dentro questo contesto ci ha messo quattro mesi e mezzo. Per fare questo ci sono una coesione incredibile. Sull'articolo 81 è stata domanda perché naturalmente c'era il peso dell'economia decidente su questo tema, quindi è chiaro che la riforma del pecanalismo può interessare solo gli italiani e vorrei dire che degli italiani, i parlamentari, aggiungo con cattiveria, neanche tutti i parlamentari, perché quelli della Camera sì, ma quelli del Senato che fanno la parte del tacchino al test giving dovrebbero suicidarsi naturalmente perché il Senato cambierebbe di natura, dovrebbero essere di meno, dovrebbero essere di altro tipo, magari neanche dovrebbero essere eletti, sarebbero semplicemente ad elezione indiretta, i consiglieri regionali, piuttosto che i grandi sindaci, eccetera, eccetera. Insomma, tu fai il Senatore e potresti anche prenderla un po' male e siccome abbiamo bisogno del loro voto per fare la riforma non è semplice. Però avere un bicameralismo di questo tipo è semplicemente molte cose in Italia. Se i governi cadono, dovrebbero cadere in una sola Camera e questa legge elettorale, il famigilato Porcello, per esempio dalla maggioranza fissa è un 13 sicuro ad una Camera, perché appunto il premio di maggioranza alla Camera dei Deputati vi dà sempre maggioranza. Magari c'è una distanza eccessiva fra il partito che ha preso più voti di tutti e quanto gli serve per vincere, quindi il problema dei partiti, però ti garantisce un governo. Il problema è che noi abbiamo un altro pezzo, il Senato, che è costruito naturalmente su altri sistemi di gioco e le due cose devono stare insieme, perché appunto la fiducia è entrambe le Camere. Se noi avesse un altro bicameralismo, metta dovrebbe vent'anni, anzi probabilmente il governo Monti non ci sarebbe stato, avremmo avuto un governo politico senza sé e senza mai, perché alla Camera no, la maggioranza c'è. Questo è il difetto. È chiaro che un problema economico oggettivo, senza grandi fantasie non ci sono. Noi abbiamo proposto varie ipotesi, però tutte le ipotesi partono dall'assunto che questo bicameralismo va cancellato, il bicameralismo paritario, così come lo conosciamo, non ci deve essere più. La seconda Camera è si occupare delle autonomie, poi c'è quello che rigarva solo le regioni, a quello che rigarva le regioni e i grandi sindaci, quello che vuole solo sindaci, quello che la vuole in un modo o nell'altro. Noi abbiamo presentato l'ipotesi e il Parlamento deciderà, come appunto Napolitano ci ha chiesto. Però che sia chiaro, quello schema lì non va più bene. Poi dopo se volete vi spiego perché ci abbiamo scelto quello schema, cioè scelsero i costituenti quello schema. Questa è storia costituzionale. Seconda grande questione, la forma di governo. Matteo lo sa, Beppe pure, Damiano, io credo che il nostro Paese debba essere rallineato alle grandi democrazie e fare della democrazia un luogo anche dove si decide, perché è anche rispettoso, come accade per tutti in famiglia o in altre comunità, che a un ragione, ma poi la decisione deve esserci. Il problema è che il nostro Paese non è mai stata una democrazia decidente. Il Presidente del Consiglio è stato un garante di un accordo fra i partiti, ma mai un governante, mai. L'unico Presidente del Consiglio governante di questo Paese, se volete da Londra, facciamo così, proprio per farla così, uno è stato De Gasperi. Magic moment, magic period. Perché? Perché De Gasperi era bene bene, pulito e il Presidente del Consiglio, ma prima ancora era il segretario del più grande partito di maggioranza dell'anno. Cioè aveva la sua maggioranza. Quindi non è che avesse dubbi se proponeva al suo governo una cosa, che quella cosa non trovasse in Parlamento la maggioranza, perché lui era il leader di quel partito, con tutti i distingui per le problematiche della democrazia cristiana aveva, ma questa è una cosa certa. E infatti il rilancio della nostra democrazia parte sulla base di certezza. La prima legislatura fa la differenza. Poteva non farla, intendiamoci. In altre realtà la prima legislatura è stato un flop, in Quarta Repubblica, la prima legislatura è andata, Quarta Repubblica francese, è andata a Rotoli. Il sistema si è subito sviluppato. De Gasperi ha garantito che questa macchina è. Il secondo Presidente del Consiglio è così forte, per ragioni storiche e contingenti, per una scelta che è anche Gare Baldinità è stato Traxi, che si è incuneato tra i due grandi partiti che erano tendenzialmente già in crisi, giocando un po' con l'uno e un po' con l'altro ha tenuto e, diciamo, con tutti i modi e forme che conosciamo, ha fatto un periodo lungo di crescita e di ripresa, approfittando naturalmente del deficit spending che ancora allora era consentito, eccetera, eccetera, però ha fatto alcune cose. Il terzo è Berlusconi, perché Berlusconi era quello dei 100 deputati, che poi lo abbia fatto, come dire, tra altri fini, fini non po' medificanti e molto tarati sulla sua persona. Questo è un altro paio di maniche. Che però avesse in mano il boccino, questo è indiscutibile. Di tutti gli altri nessuno è mai stato in queste condizioni. Prodi era ostaggio. Prodi 1 e Prodi 2. A seconda dei casi, Prodi 1 era ostaggio dei partiti. Ricordo D'Alema che disse, caro professore, noi le conferiamo la nostra forza. Cioè, noi ci mettiamo la faccia, noi ci mettiamo la forza. Questo è il tema. Prodi 1. Prodi 2, tutta la questione con la sinistra radicale ti dà il senso e l'assenza di un partito in fondo. Il PD nasce proprio perché c'è bisogno di dare gambe a quella roba lì. Scegliere un qualsiasi altro presidente del Consiglio, da De Mita piuttosto che a Moro, a Moro, chi volete voi, nessuno era stato così forte. Quindi il problema è che una democrazia incapace di decidere, non dovuto per ragioni storiche, perché noi abbiamo avuto naturalmente un periodo fascista, questo ha pesato moltissimo sulla paura del tirano, c'è. Questo ci deve impedire a questo punto di avere una democrazia decidente? No. Perché poi la decisione comunque la prendono, non è che non la prendono. Cioè se tu devi poi fare quella roba e la devi fare in tempo, in modo informe lo trovano. Lo fanno comunque in maniere ineleganti, con decreti legge che vanno dritti e non passano dal via, con i massimi damenti, con gli articoli fatti da 500 mila coni, eccetera, eccetera. A quel punto il Parlamento non vede più nulla. Quindi noi abbiamo da un lato, diciamo, viva il Parlamento, ha tutta la serie della solidarietà di lì. Dall'altro non facciamo nulla perché naturalmente con la sede i conti e quindi poi, come dire, una decisione politica esiste. Allora dobbiamo arrivare ad una democrazia decidente. Qui ci sono due strade. Il rafforzamento del modello del primo ministeriale, cioè rafforzare ancora di più la forma di governo parlamentare, oppure cambiare forma di governo e prendere una forma di governo in tipo francese, semipresidenziale. Io ho vissuto un travaglio personale, nel senso che io ho cominciato il mio primo libro esattamente sul rafforzamento del governo del primo ministro, quindi rafforzamento della forma di governo parlamentare. Col tempo mi sono convinto che non basta e quindi personalmente sono più di recente, da circa tre anni più o meno, o sostengo il semipresidenzialismo perché io penso che noi abbiamo bisogno della leva delle istituzioni che è come l'asta per bocca, se vi ricordate il saltatore per l'asta, per saltare appunto un sistema partitivo che fatica a crescere. Quindi attraverso la legittimazione diretta delle istituzioni, riusciva a riformare il sistema anche partitico e a farne una cosa di scienza, così come è avvenuto in Francia con il partito socialista che nel frattempo non esisteva sostanzialmente con De Gaulle, diventato un partito serio, che poi ha vinto le elezioni, che poi si è fatta una sua storia e ha costretto il centrodestra ad essere una roba meno di destra, l'OAS, noi ci siamo stati i tiari, poi i francesi lavorano da lì e si sono, come dire, riconvertiti alla democrazia attraverso De Gaulle, che ci scatte Sten perdendo, vincendo, con Chirac che ha detto noi, con quelli di destra, destra e con Le Pen, mai! Era una convenzione costituzionale, infatti è sempre stata. Quindi usare le istituzioni per modificare anche il sistema partitico, oppure utilizzare il sistema partitico dentro l'alveo del Parlamento, dentro la forma di governo parlamentare. La dico ancora più semplicemente, se modifichiamo le istituzioni dentro la forma di governo parlamentare, confidiamo positivamente che i partiti siano capaci di autoreformarsi, senza ortopedia, senza che le istituzioni li dialogano, senza protesto. Io penso che questo non ci basti più, per questo io penso che abbiamo bisogno di istituzioni che incentivino questa leva e che consentano che questo modello democratico, perché di questo si tratta, non ce l'hanno in varie forme, ma se prendiamo lo francese, lo dell'austrievo, sempre il senzioismo è quasi maggioritario in Europa, non è importante, ce l'hanno la Finlandia, ce l'hanno in Irlanda, ce l'hanno in varie forme, ma è importante, ma insomma quel modello di legittimazione che consente a questo punto di rafforzare anche una spinta per trasformare i partiti adeguati alla modernità. Come Commissione cosa abbiamo deciso? Che tuttavia non avevamo la maggioranza dei numeri per sostenere un'ipotesi univoca sul tema della semipresidenziale. Quindi ci siamo acconciati a dire, beh, però da recenni è una forma di governo parlamentare che consenta di decidere. Cioè il Clementi 2005 e non il Clementi 2013. Questa nostra proposta naturalmente ha delle gambe, cioè la legge elettorale, perché il tema vero sono i partiti politici, non esistono istituzioni senza partiti, non c'è democrazia senza partiti, ma non esistono neanche partiti di plastica, perché lo abbiamo sotto gli occhi stasera, i partiti sono sfarinati. Come si creano i sistemi dei partiti? Beh certo non si creano in cucina, il problema è vero è questo, che i partiti sono figli di una voglia di un mondo diverso, figli di una partecipazione, di una classe dirigente che ci crede, di passione, insomma di storie, di culture e di soprattutto valori. Quindi non è una legge elettorale che fa nuovi partiti, tuttavia senza una buona legge elettorale, anche il miglior partito con i migliori valori non ce la fa, è del caso del PD. La nostra legge elettorale è una legge elettorale che è costruita sostanzialmente in due parti, la prima parte è una legge che cerca di valorizzare il dato del legame tra l'eletto e l'elettore, basandola, diremmo, sullo schema dei sindaci, indicola proporzionale con una soglia di sbarramento per evitare la disgregazione, e una seconda parte di tipo maggioritario che convoglia sostanzialmente a fare il ballottaggio tra i due partiti più forti che hanno superato l'anno primo step, laddove nessuno dei due ottenga la maggioranza naturalmente. Ha un pregio o un difetto? Dipende da come lo leggete. Per me è un pregio il fatto di avere il premio di maggioranza. Il premio di maggioranza è naturalmente in sé per sé una cosa non bella, perché se tu hai preso 30, perché devi prendere 55 di 16? Se hai preso il 30%, perché devi prendere il 55% di 16? Io te ne do 20 in più e tanto, 25 in più e tanto. Si chiama disproporzionalità. Tuttavia, in nessun paese al mondo la disproporzionalità non esiste. Ma spiegheremo tutti di un partito che fa 51. De Gasperi ci fece una legge sopra che poi non la approvarono, ma la democrazia cristiana c'era il 48% in questo paese, è quasi come la Merkel. La Merkel ha preso il 42% ed è costretta, proprio perché non ha il premio di maggioranza, a fare una larga lezione. Il 42% vuol dire che quasi uno su due in Germania ha votato la Merkel. Su 60, non sono di più di noi, su 80 milioni di persone, più di uno su tre ha votato la Merkel. Incontrati nella strada, tu ha votato la Merkel, ogni tre ce ne è, anzi più di uno, è tantissimo, è tantissimo. E tutto questo non le basta per fare un governo proprio. Deve trovare un accordo di coalizione nel caso con l'Esp.D. Ecco, l'assenza di un premio di maggioranza lì è un calzotto in un occhio, è quello che c'era il problema di De Gasperi. La democrazia cristiana faceva 48, dice, sai però non è fatto 51, si è costretto al governo delle coalizioni. Però lì, i piccolini, lui aveva appunto una 48, gli bastava quel pochino per fare 51 e allora prendeva un po' di cerpuglietti, diremmo un lessico di oggi, e faceva 51. Però, proprio perché anche loro sentivano quel problema, fecero appunto nel 53 il tentativo di una legge che desse un tantinello di premio di maggioranza per arrivare a 51, a chi faceva 45, quindi siamo a numeri e noi ci risugniamo la notte. Però il premio a noi serve, perché il premio è un incentivo a fare per bene. Allora questa legge, noi ci siamo divisi, alcuni di noi ritengono il premio deve essere basso, io ritengo il premio deve essere, scusate, non il premio, la soglia per accedere al premio debba essere bassa, alcuni ritengo che debba essere alti. Tradotta da, diciamo, più volgari sarebbe così. I partiti concorrono con la proporzionale, superano il 5%, fai 40, fai 50, qual è la soglia per far scattare il doppio turno che poi ti dà il premio? se tu fai 40 vai al doppio turno, se tu fai 50 vai al doppio turno, quale scegli? 40 o 50? Allora, se tu scegli 40 la soglia, a te in fondo ti basta poco che fai 40, perché tu prendi tutto quello che c'è da te alla tua sinistra e fai subito 40, oggi il PD rapidamente fa 40, PD più sella, più qualche altro, rapidamente 40 si fa, rapidamente, rapidamente, rapidamente no, lavorando, facendo un po' di un sano uncinetto, un po' di figurine e ci sa via, via, penso per sangue, qual è il problema? Che uccide o qualsiasi ricerca ha delle ragioni proprie che ti distinguono da quello che ti sta a sinistra? Non è necessario, oh, e che bisogno c'è di darsele addosso? La coalizione sociale, ti porta al 40 ma è un problema perché come noi pensate che ci sia un po' di sana differenza a mantenere, diciamola così perché magari chi va fuori in questo 40 poi magari è disinteressato al governare e invece noi siamo quelli che pensano che un partito serio è un partito che è innanzitutto sicuramente il governo del paese vuole cambiare le cose perché vende dei problemi e vuole dare risposte senza grande filosofia allora la soglia bassa disincentiva la ricerca della scoperta di sé per capirsi l'identità non è importante siamo tutti in sinistra è una grande collezione e via andiamo e non va bene dal mio punto di vista perché uccide qualsiasi idea di chi sono io che è faticoso scoprirlo e sanno inolento e anche vorrei dire mette a rischio la nostra stessa identità e esistenza di partito politico ma c'è un problema da forse perché tutte le grandi domenze sono poste sono poste i francesi in quinta repubblica con il partito socialista sono poste gli spagnoli con la rinascita della democrazia con il partito socialista gli inglesi gli americani i tedeschi neanche a parlare ok allora la soglia deve essere molto alta perché se tu metti molto alta la soglia disincentivi matrimoni che non sono veri disincentivi ammucchiate dovrei essere espliciti ma costringi ciascuno a correre con la sua bandiera un grande pallio di Siena dove ciascuno corre per sé presentandosi al mondo con la sua identità al meglio di sé questo è il tema o tu mi dici però così tu non vinci certo che non vinco però vado con le mie idee io ci metto la farcia spiego a un paese chi sono faccio X 35 30 32 38 non lo so quanto fai so di certo che non vinco e qui scatta il secondo turno nel secondo turno però se io sono un partito di governo e io sono il PD e effettivamente il PD è uno dei partiti più grandi forse il primo partito di questo paese ah ma io al valutaggio ci arrivo nel valutaggio è molto semplice quelli che hanno votato per il partito non PD di sinistra accetto che penso che non voteranno Berlusconi ma voteranno più facilmente per il partito a loro meno distante diciamola così qual è il vantaggio? che io non pago prezzo per il loro voto io non potrò chiedere a Vendola di stare con me perché quei voti vengono a me naturalmente certo se gli metto le due dita negli occhi no non con misura talia ma è quasi naturale che io non pago il prezzo politico del voto del mio bacino più largo rispetto a quello naturale che è il mio ma ci sono dato con la mia identità vuol dire che al primo set i deputati tolti del premio il 38% dei deputati sta al netto del premio che mi serve per fare 55 sono tutti i deputati che sono andati con la maglietta della magica S Roma che è l'unica squadra che merita in questo paese sono duri e puri e su questo non ci siamo d'accordo però so che è un vizio che mi perderemo questo punto che a voi sembrerà poco è tantissimo che fatelo raccontare da Matteo quanto conta avere una compagine parlamentare che la pensa tutta con gli stessi obiettivi che vive la tensione politica verso una chiara direttrice che ci ha messo la faccia dentro lo stesso cultura politica è tantissimo da quel governo che nascerà anche sulla base di quel premio di una forza determinante per questo la Merkel la dico nonostante la grande coalizione vivrà serena perché lei sa che il 42% di quelli che stanno nel Bundestag sono i suoi ragazzi o le sue ragazze diciamo la cosa cioè sono persone che hanno messo la faccia per l'unione del CDU senza il CDS del suo dentro il programma che era il suo vero programma non era un programma anacquato fatto la brodata insieme 200 rotte pagine impotabile trattato anche il programma era trattato le virgole le parole eccetera ma era roba pura noi vogliamo via questo via questo via questo ecco perché la soldi deve essere molto alta naturalmente noi ci siamo divisi però adesso sarà il Parlamento decidere questo meccanismo è una grande tornatire vantaggio perché nella prima parte dice a ciascuno vota col cuore perché in fondo votare con la concursionale è votare con il proprio cuore ognuno vota quello che si sente detto vota il candidato di riferimento che esprime i suoi valori il partito di riferimento che esprime i suoi valori ma nella seconda parte vota per il governo del paese è certo che il grande impegno del PD sarà riuscire a coagulare e arrivare al valutato diciamola così perché forse gli consentirà naturalmente poi di comprare anzi scusate di non comprare i voti al secondo punto questa è la grande sfida che abbiamo di fronte che ha di fronte il Parlamento dentro questo abbiamo messo una variante in particolare io ho insistito con alcuni amici e colleghi che questa parte la prima parte del voto proporzionale sia temperata anche da una quota di collegi maggioritari così come è in Germania perché? perché se no in questo gioco il territorio non entra invece noi dobbiamo riabituare anche la politica cioè gli eletti ad avere un confronto molto diretto non personale esclusivamente con l'elettore cioè vota Ricchetti vota Francesco vota Pagani perché tu li conosci no tu voti a Ricchetto Ricchetti Pagani eccetera ma perché sono del tuo territorio cioè la disciplina del territorio deve riemergere in una dimensione addirittura più stretta che quella della circoscrizione del collegio maggioritari piuttosto che quella della circoscrizione promozionale c'era un disegno di legge diceva 50-50 si può fare 75-25 35 non è un problema tra parte maggioritaria e parte proporzionale in questa prima parte non è importante conta il principio di riallocare di riportare la politica alle basi cioè al territorio terza e ultima cosa con questo che io te l'ho fatta già troppo lunga è questa abbiamo inserito altre cose però una cosa più importante a parte il bicameralismo la forma di governo della legge elettorale è dentro di tutta la questione del titolo quinto il titolo quinto è sostanzialmente quella parte della prostituzione che ci dice come sono allocati i rapporti tra Stato e Regioni intorno a una serie di materie cioè come si distribuisce il potere e la decisione sul potere su alcune cose tra Stato e Regioni ecco lì noi abbiamo riscontrato tantissimi problemi è una questione complessissima di sicuro c'è una cosa che va evitata e l'andrà evitata quando il Parlamento vorrà decidere se potrà decidere bisogna ridurre la conflittualità tra Stato e Regioni è eccessiva è inutile e non fa capire più nulla non fa capire più nulla credo a chi fa il mestiere del consigliere regionale ma anche all'imprenditore che vuole investire per una cosa e dice ma io con chi devo parlare ma quanti passaggi devo fare ecco lì è stato un errore e chiudo su questo ma perché nasce questa grande conflittualità perché allora nel 2001 non si sciolse il grande dilemma se l'Italia aveva uno spirito regionalista o uno spirito municipalista e in mezzo ci stanno le province questo dilemma si può sciogliere? probabilmente no ve lo dico con grande franchezza perché ormai le regioni si sono radicate e giustamente i comuni hanno una storia che parte dal medioevo insopprimibile io penso che noi dovremmo da questo punto di vista trovare una formula che tenga insieme le due cose alcune cose noi abbiamo provato a mettere giù con tema tutta chiarezza ma dovremmo dare senso a quello chiarissimamente che è scritto in prostituzione la nuova perché il titolo quinto ha fatto tante schifezze però una cosa soprattutto positiva l'ha fatto ha scritto che la repubblica è fatta di comuni province città metropolitane regioni e Stato cioè ha dato il senso della repubblica delle autonomie di un pluralismo di una poliarchia che il nostro paese davvero ha perché basta prendersi uno straniero qualsiasi adesso il climatico che vive qui lo sa che viene qua che cosa apprezza dell'Umbria eccetera apprezza che tu fai 50 metri e cambia altri 50 metri e cambia cioè è una visione aperta larga al tempo stesso armonica ma differente cioè poliarchia pluralista per la prima volta la grande differenza tra noi e gli altri paesi è che il nostro articolo 114 riconosce la repubblica e l'autonomia allora delle due luna o noi scegliamo la pieta italiana vera a questo modello autonomistico e ce la dobbiamo inventare il Parlamento se la deve inventare noi abbiamo dato una serie di tecnicalità diciamo per provare a seguirla oppure bisogna tornare indietro sempre comanda lo Stato gli altri non comandano obbediscono e basta però sappiamo che quella scelta lì è contro la natura sentimentale pre-politica sarei dire di questo paese contro la sua storia prima che contro il fatto perché lo abbiamo visto perché non si tiene e chiudo dicendo che non si tiene a maggior ragione in un contesto nel quale noi abbiamo ancora delle attuali speciali che a maggior ragione non si giustificano più o meglio si giustificano solo ed esclusivamente per le questioni relative ai temi linguistici il resto delle cose dalla Sicilia alla Sardegna dalla Val d'Aosta a Friuli e naturalmente a Trentino queste cose non si giustificano più è una simmetria che dentro il contesto europeo non si tiene più il coraggio di questo noi l'abbiamo messo non tantissimo perché anche noi siamo figli naturalmente delle nostre storie ci sono Sardi Siciliani i Trentini anche tra di noi e quindi queste cose hanno un senso però le ragioni della specialità devono essere riconfermate perché se tu stai dentro un bacino europeo ora io capisco la Sardegna allude un po' la Catalogna però certo la Val d'Aosta è una spiegazione che ce la deve dare diciamola così e questo incide torno a dire su questo più anche sulla nostra crisi economica perché basta ricordare le assunzioni che fa sistematicamente la regione Sicilia con un solo tratto di penna e questo chiudiamo o le allocazioni dei fondi che l'Università di Trento ha rispetto alla politica dell'Università di Perugia e anche questo ci fa capire le asimetrie territoriali perché i nostri giovani vivono anche delle distanze ok noi abbiamo fatto un po' troppo l'uomo ma sono qui bene in ordine sparso no vado breve io però ne ho una ed è a partire dal sistema elettorale esistente in considerazione al fatto che sappiamo che ne è già sancita l'incostituzionalità sulla parte relativa al premio di maggioranza che verrà scritta e certificata probabilmente nei primi giorni di dicembre io ho una percezione da parlamentare che si relaziona altre forze politiche tu ce l'hai perché i cosiddetti saggi sono comunque figli di un pensiero di un aere di un'ispirazione qual è secondo te oggi il punto di mediazione possibile e qual è il risultato realisticamente a cui si può arrivare dalla situazione esistente cioè io faccio fatica ad immaginare una riscrittura di una legge elettorale nuova completamente quanto piuttosto la politica anche rata è possibile a correttivi significativi che possono tendere alle cose che hai detto cioè a partire da un forcello modificato il punto piutturo non riportato su premi di maggioranza e sciolto sulla questione di stegloccato cioè se questo secondo te è un elemento che ci avvicina senza portarci l'altra sempre relativa a questa è se non si è mai ragionato nei lavori del comitato sulla istituzionalizzazione delle primarie cioè nel senso che nel senso che tu hai tracciato alcuni possibili modi di selezionare il candidato della classe dirigente cioè un mix di liste e collegio un rapporto tra scelta dei partiti e territorio ma se secondo te si colpura una posta e se secondo te può essere un elemento di discussione dei prossimi mesi perché io penso che a compimento di un quadro che arriva anche alla forma di governo una modalità qualificata che rafforzi il fatto a fronte di partiti così frantumati che la selezione avviene in maniera forte potrebbe essere un elemento di discussione interessante posso subito? sì così mentre facciamo un altro giro allora parto dalla fine io ritengo su questa cosa nelle primarie sia decisivo però sono stato l'unico a dirlo l'unico allora siccome i nostri atti sono anche in audio sono tutti disponibili lo troverete ed è stata facilmente derubricata nonostante come dire io mi sia sdraiato in mezzo ai colleghi a parte le battute purtroppo forse non era la cultura politica che ci ha espresso tutti insieme dove ero molto minoranza e loro erano molto maggioranza a non aver favorito e capito fin in fondo che le primarie erano una risposta sono una risposta primarie fatte per bene fatte con leggi di diritto pubblico non con una roba contrattata con il costumbo ma una cosa che fosse il Parlamento italiano definirle così come è per esempio in Toscana o in Calabria con tanti distingui che si potrebbe fare su entrambi i casi ma comunque che dà delle garanzie giuridicamente vincolante sono stato l'unico a proporlo ed è andato in cavalleria senza grandi dispiacere ma con molta franchezza però perché è stato vissuto come se fosse una specie di americanata dentro una roba che non si tiene eppure le primarie esistono ormai non solo negli Stati Uniti lo fanno in Spagna lo fanno in Francia lo fanno in Gran Bretagna per certi aspetti anche in Germania sono primarie di partito certo solo noi abbiamo avuto le primarie di collezione ho cercato di spiegarlo ai colleghi e agli amici che è stato un errore però molti di loro in quell'errore sono molto impegnati hanno molto creduto quindi era anche difficile loro pensavano che anzi fosse ottimo la primarie di coalizione invece quindi c'era proprio un problema concettuale prima che diciamo tecnico io penso invece che le primarie siano uno dei canali da non sottavoltare proprio per ripristinare il rapporto fra l'elettore perché incentivano un meccanismo costitivo perché avvicinano le persone le costringono a confrontarsi conoscono l'offerta potrebbero anche rifiutarla ma hanno modo di avere il modo di entrare più democrazia è una delle prime cose perché farlo con legge di diritto pubblico cioè con legge del Parlamento per capire ci fa il senso perché legge del Parlamento ci dice chi può finanziare chi quanto i firmi ci vogliono per candidarsi ci dice entro quanto tempo ci dà le regole astratte che valgono per tutti le garanzie e se no diventa una specie di contrattazione di sistematica nei vari partiti se la arronza come vuole dipende dall'annata buona dalla contrattazione buona da chi se parichetti tu vinci nella contrattazione se parichetti tu perdi al tavolo delle trattative quindi affidare le primarie a questo rischio mi sembra eccessivo tuttavia noi abbiamo perso o almeno io ho perso confido che il Parlamento su questo abbia modo di metterci le mani ma è stata scattata una po' di avvicinare il letto elettorale la domanda di Matteo la prima è possibile votare il porcellum di modo che si riesca comunque ad avere una nuova legge elettorale allora il dato in realtà per essere più esatto è questo è che il 5 dicembre la Corte Costituzionale è stata chiamata a decidere se può decidere di modificare la legge elettorale allora io ritengo che il testo che gli sarà sottoposto il ricorso che gli sarà sottoposto sia in sé inadmissibile perché non dentro della tecnica di Dacu comunque vi dico semplicemente il ricorso della Cassazione alla Corte Costituzionale non esiste nel nostro ordinamento si può andare alla Corte Costituzionale per i due casi o in conflitto fra Stato e Regioni o dentro un processo siccome il ricorso della Corte Costituzionale non è nell'uno o nell'altro ci devono ancora spiegare perché la Corte potrebbe accettare di decidere può darsi per motivi di politica del diritto diciamo la cosa se così fosse può darsi che esattamente sia dentro con l'alveo che dice Matteo cioè che la Corte accetti di decidere perché abbia il testa di abbattere i premi di maggioranza o questione che non è irreale perché la prima dichiarazione fatta dal nuovo Presidente della Corte Costituzionale che è diventato Presidente la scorsa settimana di Artano Silvestre è stata appunto del nutriperplessità sulla legge elettorale si potrebbe dire com'è che nutriperplessità solo oggi quando 1.700.000 film sono state portate in corte nel gennaio dell'anno scorso com'è sta storia com'è che la Corte si svegliava così tanto perché all'epoca quando noi portavamo le film e abbiamo fatto tutti i referendum sulla legge elettorale la Corte ci disse nei fatti per le righe nel metalinguaggio di utilizzare i giuristi non si può disturbare il governo Monti e quindi voi ci destabilizzate e quindi non rompete le scatole quindi la legge questo quesito è un ammissile e quindi hanno deciso che invece effettivamente questo problema può darsi e lo discutano se lo discutono il problema si proporrà a gennaio-febbraio perché la Corte deciderà a gennaio-febbraio e allora mi entra lo scenario che dice Matteo cioè la Corte ha detto il Porcello cosa prende e cosa lascia perché deve lasciare qualcosa un po' applicabile questa è la regola che domani mattina funziona già la Corte decide oggi domani può sciogliere le camere perché c'è comunque una legge elettorale la Corte può introdurre non so la Corte può cancellare le liste bloccate no perché se tu cancelli le liste bloccate devi dire che si seleziona diversamente ma la Corte non può dire come fare le cose può solo dire che le cose fatte non sono buone alla fine sfrondato dello sfrondabile la Corte può semplicemente attaccarsi e non è sarà semplicemente ma è una cosa molto seria a un premio di maggioranza e dire che dare la stampella per chi non arriva a 51 non è una cosa buona e abbatte il premio se la Corte abbatte il premio qual è la legge elettorale che ha dato il premio una legge tutta proporzionale senza premio sostanzialmente una legge che confida che almeno ci sia un partito che faccia 51 ora è che ci vuole una laurea di scienze politiche per vedere in Italia nessuno fa 51 nei prossimi 10 anni probabilmente anche se tu metti Maradona a giocare davanti mano di Dio se non ci aiuta a fare 51 ugualmente e quindi che cosa vuol dire vuol dire che ci condanna a larga coalizione fissa è il caso Merkel uno è semplice tu c'hai la Merkel che può piacere o non può piacere ma ora c'è il 42% del suo paese che sono tedeschi non è che siano proprio gente abituata al carnevale di Rio quindi è gente che pensa quando vota fa scelte razionali in via generale diciamola così e nonostante il 42% lei è costretta a larga coalizione quando immaginare in Italia tu fai l'altra coalizione finché io non divento vecchio e forse anche dopo perché magari funziona cioè tecnicamente potremmo aver di fronte nei fatti una mutazione genetica del nostro rapporto elettore colleghi ritengono che potrebbe accadere a questo punto che il Parlamento è un sussutto di dignità che era l'ultima fase finale della battuta di Matteo faccia a questo punto del maquillage a questo porcellum deporcellizzato dalla prena vero? può darsi di sì non può darsi però di no anche lì noi lo affidiamo alla buona volontà ma soprattutto ai vantaggi e agli svantaggi che deporcellizzare o porcellizzare ulteriormente questa nuova legge potrebbe avere e allora vi faccio la domanda al contrario a chi conviene avere un governo che decide un governo politico al PD? l'APD è una cosa unitaria? al PDL? ma al PDL se la punta in casciara mi pare che sia stanza evidente non è che gli va troppo male soprattutto se sa di non vincere e che quindi è meglio rischiare di andare in larga coalizione piuttosto che rischiare di perdere a Grillo? ma Grillo serenamente se c'è una larga coalizione sale nei sondaggi mica si abbassa e si faccia a Selle? ma Selle mi pare che ha tutto il vantaggio di poter o stare dentro taglizzando taglieggiando dall'interno o stare fuori e sparando a cannonade guardate accento di questa cosa l'unico a cui conviene è il PD ma un PD che aspira il governo del Paese ora in mezzo a questo gioco il PD ha anche il suo problema che è il corso che a maggior ragione aggiunge benzina in questo contesto ecco che la prospettiva della larga coalizione di una riforma di una legge elettorale che dia un governo a questo Paese a seconda con qualsiasi caratteristica maggioritaria e non maggioritaria col premio senza premio insomma che consente a uno che fa 40 35 un partito che fa 35 perché il PD 35 lo fa se per bene si impegna con un buon candidato libero il PD 35 lo fa noi condividiamo l'idea che Matteo Renzi sia un buon candidato leader io penso che Matteo Renzi 35 lo fa ok? può bastare avere il 35% di questo Paese uno su tre più di uno su tre a governare? no cioè noi chiediamo sostanzialmente al prossimo candidato leader di qualsiasi schieramento di essere più di degastret ma dico così se finisce con la storia così francamente è una richiesta alta diciamo così non dobbiamo però dimenticare che probabilmente le larghe intese fanno cioè coloro a cui fanno comodo le larghe intese sono molto di più di quelli a cui non fanno comodo ecco perché il PD si sta impegnando ecco io vedo in questi giorni molti del PD che dicono la legge elettorale è la legge elettorale allora io qui alla fine al di là della corte che torno a dire secondo me non accetterà di discuterne ma laddove accettasse dovrebbe essere proprio un modo dell'animo di chiedere una legge di governo che consenta di governare perché vorrebbe dire a quel punto se no rinunciare al PD cioè facciamola bene il PD ha un senso solo si aspira a fare questo a essere il comitante altri partiti grandi dell'Europa una volta vince una volta perde ma quando vince vince e se no a me la ridate c'è la democrazia cristiana al partito comunista al partito socialista liberale tutti gli altri che non avevano bisogno di interrogarsi si mettevano tutto intorno a tavola e coordinavano lo stesso ma era un altro gioco noi vogliamo quella roba lì non lo so io penso di no io sono cresciuto pensando di no non mi sento anomalo guardate i tedeschi sono finiti lì in larga coalizione col 42% perché il sistema è costruito per portarli pochissimo sempre lì hanno fatto una riforma della legge elettorale in Germania a maggio per arrivare lì e la Merkel l'ha accettata perché aveva bisogno in realtà di succhiare i voti dei liberali che infatti non sono entrati in Parlamento sono al 4-8% con una sola di sbarramento a 5% ma c'è un grande ma questa operazione porterà in Germania al prossimo punto qualsiasi prossimo punto è filmato quindi diciamo vi potete rinvitare e dire che io sbagliavo alle elezioni europee del prossimo anno ci saranno il partito Alternative for Deutschland alternativa per la Germania i nazionalisti diciamola così che oggi non sono entrati in Parlamento ma il prossimo giro sbagliato perché la Merkel ha polarizzato al punto tale da succhiarsi il lato centrale della dialettica politica lei spedesse a livello solo due punti cioè niente se lo sono militari le facciamo vedere che cosa le spede oggi in Germania ma non è un problema ma in qualche modo polarizzato al punto tale facendo crescere questo tasso di radicalismo questo è il protogo siamo stati liberali siamo stati liberali esatto a questo punto questo radicalismo rischia ovviamente da un lato di aumentare la larga coalizione ma al tempo stesso di aumentare anche il populismo il male maggiore che gira per l'Europa in tutti i paesi dell'Unione Europea e quindi anche poi sarà vedrete nell'Unione Europea è questo la larga coalizione è una conferma del populismo vuol dire che nessuno è capace di battere l'antipolitica questo è il problema ed ecco perché io spero che non viveremo lì e se la corte accetterà di discutere battendo il premio auspico che il Parlamento e soprattutto il PT dica al paese ai poteri forti ai quelli meno forti ai quelli che sperano essere tali noi esistiamo solo perché vogliamo governare se no era molto più bello ognuno stava a casa sua quello ce la difendeva il lampione con l'altro difendeva la sedia il voto del cuore e va bene così larga coalizione fissa il Presidente del Consiglio è un grande accordo che sia l'attizio che sia Caio come il porto quella roba lì però allontana gli elettori dagli eletti quella roba lì allontana il territorio dalla politica quella roba lì uccide il principio di sussidiarietà e viene scoprendo tanto per essere chiaro altre domande? c'è due cose la prima è la proposta che il Comitato di Bonsaggi formulerà è un punto di arrivo cioè non ci sono ci sono previste le meccanismi o le preferenze e poi dopo il discrimine tra la stricetta e dove anche acciare il premio di maggioranza e nella proposta possono essere formulare più ipotesi o c'è già un punto di mediazione? allora siccome noi non dovevamo decidere in senso proprio perché noi siamo molto ecchi che ci riforniamo al Parlamento noi abbiamo un libro laddove scena un po' di convergenza noi non votiamo non abbiamo votato la gente quindi c'è il famoso la fixio iuris si chiama il consensus larga alcuni dicono che altri dicono che una larga maggioranza dice che questo troverai la fasetta scritta e su questo troverai che la maggior parte di noi si ritrova naturalmente dentro uno schema che rafforza le stanze di governo sulle preferenze in senso stretto c'è scritto che alcuni ritengono buone le preferenze altri ritengono meglio i collegi però ecco trovi alcuni trovi altri non c'è una decisionalità in senso stretto sul punto la cosa che però da rimarcare è questa è che dentro questo contesto in entrambi i casi guardate bene tanto le preferenze quanto i collegi però vincolano sostanzialmente la politica a parlare con l'elettore diciamo così ad avere un rapporto minimo che sia la preferenza che sia il collegio si devono conoscere questo scelta perché il problema vero rimane esattamente questo che l'attuale legge elettorale può far sì che se mi mettono prima in lista io faccio le vacanze durante i mesi di campagna elettorale perché mi guardi scusa? perché tu non eri in vacanza sì ma devo chiederti una cosa ma uno fa una cosa mi spiega una cosa in considerazione sicuramente tutto personali e sicuramente anche forse in controtendenza rispetto a ciò che può emergere questa sera io e non è la convinzione di questa sera cioè la convinzione che sto maturando fin da quando ho sentito semplicemente parlare dell'intenzione di mettere mano alla carta costituzionale in questa registratura io credo che questo non sia il tempo per mettere le mani nella carta cioè questo non ci siano le condizioni sociali economiche ma soprattutto le condizioni politiche non c'è un clima di serenità e senza clima di serenità senza clima di concordia senza clima di vicendevole sforzo comune di intenti non è pensabile mettere le mani al testo fondamentale su quale si legge uno Stato mettere le mani in una condizione in cui gli interessi sono totalmente contrapposti in cui i partiti presenti nel Natale Parlamento sono il risultato di operazioni personali di operazioni personali economiche e per lo più in condizioni di discutibile base e percorso democratico di genesi di democrazia interna di pluralità di pensieri di forme di autocontrollo di trasparenza cioè non siamo in una condizione in cui sia pensabile mettere le mani alla carta costituzionale fra l'altro in un percorso che oramai dura da vent'anni in cui questa classe dirigente cioè la classe che ci ha governato politica di questi vent'anni non è stata in grado né tantomeno di gestire al meglio quel poco che è stato fatto che poi si è rivelato tanto di revisione della carta costituzionale due occasioni il titolo quinto il pasticcio calderoli nella baita di Lorenzago di Cadore perché per fortuna gli italiani sono stati più intelligenti e scaldi ma il titolo quinto che nacque con i migliori tenti diciamo che è nato in casa nostra è stato usato come una clava dalle istituzioni soprattutto regionali che ha ambrandito la clava del titolo quinto per intimare o per avversare i provvedimenti nazionali per creare una sorta di opposizione politica questa classe dirigente se ha usato una riforma concettualmente principalmente condivisibile della valorizzazione delle peculiarità territoriali perché era questo cosiddetto federalismo come può essere la stessa classe dirigente che riprende in mano questo testo ma ci sono gli stessi del titolo quinto e ci sono gli stessi della baita di Lorenzago di Cadore come può in una condizione in cui non si riesce ad affrontare l'ordinarietà dei provvedimenti amministrativi e legislativi l'ordinarietà pensare di affrontare la straordinarietà il testo fondamentale e chiudo credo che invece anche a luce questo sì di ciò che è avvenuto oggi si debba compiere quello che venne non lontano di cui svolto nel mi sembra 1260 come esperimento che fu il conclave di Gregorio X in cui si scoperchiò il tetto del palazzo finché non venne eletto il papa e quando cominciò a piovere e a nevicare constatarono che forse era veramente il caso di leggere il papa e non passare la diaccio mesi all'interno del conclave e loro fanno un'operazione del genere sulla legge elettorale e devo dire l'unica operazione che mi ha convinto da uomo della strada in questi mesi è stata l'operazione di cerchetti cioè non ci si trova e non ci si troverà mai d'accordo su niente sulla legge elettorale l'unico passaggio di decenza sulla quale veramente va fatta l'operazione alla Gregorio X si azzera questi vent'anni di vergogna e si torna al punto di partenza tanto siamo al punto di partenza come condizione sociale e economica possiamo esserlo anche come condizione politica abbiamo perso vent'anni di storia e quindi ripartiamo dal di lì con una legge maggioritaria punto e basta io capisco che per gli addetti i lavori certo anche l'esercitare a volte delle alchimie è suggestivo ma dobbiamo toglierci queste belleità non ci sono le condizioni secondo me la mia seconda è la sua la prima parte gli temi siamo sentiti e poi non si è confuso un'unità che ho avuto un dato un documento sulla questione del 138 so perfettamente che gli anni costituzionalisti tra cui i dossetti dicevano che la seconda parte doveva essere emendata che era troppo origina c'era la preoccupazione non si vanno dall'esperienza fascista il bilanciamento dei poteri però si è aperto un dibattito sul piano culturale dove a me impastidisce questa sinistra ostica champagne che interviene nella Costituzione e non si tocca d'altro lato però è questo precedente con tutte le garanzie la terza lettura prima seconda terza però di fatto un precedente per cui tu vai a modificare l'articolo 138 per mettere mano la carta costituzionale perché se no in Italia non si lucide mai niente tutte motivazioni giuste a me continuano a parlare dei dubbi cioè è un dubbio che di fatto mi rimane se questo percorso è un percorso che ha un significato se una forza dice che ha un precedente rispetto alla rigidità della nostra Costituzione anche in futuro che si possa fare con una legge a ulteriore modifiche accelerandone quindi il percorso e credo che non credo niente vorrei capire un po' di più perché la cosa mi anche un po' mi lascia un po' così ho seguito anche un po' i dibattiti che ci sono stati tra diverse persone che ovviamente ha affezionato al testo costituzionale per tanti motivi è più rigida l'interpretazione come hai capito il senso questo è l'altro ce l'ho fatto con lui una cosa non chiede prego anche io mi collego mi servisco perché è strettamente collegato anche io la pensavo come lui fino a qualche tempo fa e stasera secondo me ti ha chiarito abbastanza bene il perché si può andare nella direzione della riforma proprio collegando questa debolezza che per noi è chiara economica insieme alla debolezza politica insieme alla debolezza delle istituzioni cioè il tema è qualcosa in questo momento qua bisogna fare perché se no comunque la crisi è talmente grave è talmente estesa che comunque è come il terremoto è già successo cioè quindi credo e stasera hai chiarito a modo quali sono gli aspetti che hanno creato questo cortocircuito del nostro paese e quindi io credo invece che la riforma debba essere fatta specialmente per quello che riguarda il bicameralismo perfetto e il fatto che noi comunque facciamo parte di un mondo e quindi se noi siamo diversi da tutto il mondo bisogna che ci domandiamo di avvicinarci a quello che è tutto il mondo perché siccome noi oggi siamo strettamente collegati le persone sono strettamente collegate l'economia strettamente collegata noi non possiamo pensare di rimanere isolati e l'altra cosa è vero che c'è stata e c'è questa crisi per cui la classe politica viene a godere di un discredito generale ma anche forse perché c'è stata questa mancanza di collegamento per cui quella che è una crisi più generale viene letta poi c'è anche sicuramente la crisi degli uomini politici ma non può essere così per tutti quindi c'è anche questa lettura per cui oggi qualunque addirittura lo dicevo io sono amministratore locale fino a qualche tempo fa gli amministratori locali venivano salvati quindi si parlava male degli amministratori a Roma dei regionali però quelli che erano sul territorio si salvavano oggi comincia a cambiare l'aria anche per quelli locali perché comunque nel momento in cui vengono utilizzati come esattori per conti dello Stato e comunque hanno questo rapporto per cui devono continuamente chiedere tasse perché poi devono mandare metà del limo a Roma eccetera quindi a questo punto qua vengono anche loro vissuti come vessatori quindi mi sembra che questo cortocircuito che esiste non possa più trovare delle soluzioni altra cosa che non avevo capito all'inizio era il perché della commissione dei saggi mi dice ci sono i parlamentari perché ci deve essere anche la commissione dei saggi mi sembra proprio che sia questo momento di estrema gravità che crea la necessità di approfondire la materia proprio perché forse c'è anche questa crisi credo che non sia così facile farla passare specialmente per quello che riguarda verso il senato perché è un loro problema ormai che siamo guardati a risolto guardati a risolto ma io non devo dire veloce veloce però raggiunge perché mi ho quasi mi hai dimenticato la città è stata un po' la vicenda del bullismo istituzionale sull'obiezione delle province ecco quale ricette ci sono in giro perché a me siamo intervenuti ma ne ero boante i conti sono semplici 200 milioni di euro quindi è solo un drappo che viene sventolato durante il torno beh insomma 200 milioni di euro non sono i conti sì perché le strade infatti le chiudiamo noi ne abbiamo 1200 km mentre le chiudiamo e abbiamo deciso di chiudere quindi quelle che sono il 70% del nostro conto non ci sono più eh ah ragazzi è così ecco quali proposte sono su questo tempo allora c'è un tempo giusto per il tuo mare di situazione oddio per la morte ci sono trovi parlamentari che sono di più no volevo chiedere solo questo proprio perché ci sono valutazioni di principio e soprattutto mi pare che non si creda che effettivamente anche stavolta si riesca poi a cambiare qualcosa probabilmente proprio perché per capire meglio la commissione ha finito i suoi lavori e ci sono si sono create dentro la commissione c'erano opinioni posizioni diverse delle maggioranze volevo capire queste maggioranze di fatto riflettono le culture politiche di chi ci ha rappresentato in quella commissione o sono frutto di un'analisi tecnica giuridica oppure appunto rispecchiano orientamenti politici diversi perfetto questa me la cavo subito al volo dicendo che ciascuno di noi ha delle idee naturalmente è una cultura politica che sostiene anche la politica del diritto e dunque le sue scelte e si sono agglutinate in realtà non sulle classiche linee politiche diciamo la su destra e la sinistra ma proprio sulle questioni diciamo delle nostre materie e quindi il problema per cui quello che tu normalmente dici non so tra di noi c'era un collega che è stato nominato al CSM in quota centrodestra un laico del centro eletto dal Parlamento per centrodestra che però sistematicamente votava su alcune questioni con l'ex parlamentare l'ex consigliere comunale provinciale e regionale del centro-sinistra quindi diciamo non è la politica discriminante quindi è proprio la matè e questo per certi aspetti è un segnale molto positivo dal mio punto di vista perché si è parlato di merito tranne i due casi di due colleghi che si sono dimesse Lorenza Carlassare e la Nadia Orbinati che lo hanno fatto sulla base politica infatti Lorenza ci ha scritto e anche la Nadia ci hanno scritto grazie per i lavori ci hanno dato di bene è stato molto positivo eccetera eccetera noi ci dimentiamo che Pagliariello ha detto che il processo a Berlusconi è un'attentata della Costituzione adesso mi ricordo anche tu la frase però diciamo è la politica che le ha fatte dimettere è un altro gioco se noi stiamo ognuno di noi su delle politiche vi dico c'è da Valeria Unida a Augusto Barbera appunto a Zanon a Caravita a quelli che con la Luciani non so chi altro voi conoscete eccetera però roba che è rimasta il nostro foro interiore ci siamo morsi la lingua per alcuni passaggi però si parlava di merito eravamo lì con il vestito che ci compete che è quello degli studiosi e lì abbiamo svolto quella parte poi per come votiamo per chi sosteniamo per chi collaboriamo a chi ci sentiamo vicini fuori da quella porta ecco loro hanno rotto questo patto però con il merito come dire è arbitro delle sue scelte anche su questo allora e quindi rispondo scusate a me c'è un tempo per riformare la Costituzione e qual è il tempo giusto? è una domanda bella ha fatto la domanda delle domande nel senso che quando è che un paese è pronto per riformare lo stesso? allora c'è una prima strada di risposta un paese è pronto in genere quando esce da una grande rottura quando è che due decidono di sposarsi? quando c'è un processo può esserci un processo molto lungo o c'è un momento così come decidono di divorziare c'è un momento cioè anche le democrazia in fondo vengono poste o i paesi per essere più esalti vengono posti di fronte a grandi momenti di passaggio in genere le Costituzioni sono figli di grandi momenti di passaggio e da qui la seconda guerra mondiale e da qui il momento repubblicano la carta del 41 ma quella è la parte facile cioè il normaletto avviene così nei momenti di passaggio uno svolta stramba se amate è il linguaggio marinale quindi quella è la parte facile è anche lezioni con la roba lì che la imparano subito il problema è dopo è nella quotidianità come aggiorni il tema facciamo la matrimoniale come rinnovi il patto matrimoniale questo è lo schema di gioco come adegui la Costituzione